Alba Parietti è diventata l'ultima vittima di una serie di furti che affliggono Milano e il suo Interland. Nella notte, l'attrice ha scoperto che le gomme della sua auto erano state rubate, un episodio che ha condiviso attraverso un post sui social, rivelando la sua frustrazione. Nella sua testimonianza, Parietti ha descritto un'ingiustificata condizione di insicurezza che colpisce non solo lei, ma anche altri residenti di Basilio, dove le auto sono state trovate vandalizzate. Il suo messaggio, che trasmette la sensazione di impotenza e paura, evidenzia un problema ben più grave, Milano, è diventata un luogo in cui il rischio di aggressioni, scippi e crimini efferati all'ordine del giorno vivere qui è diventata una roulette russa, ha dichiarato, esprimendo un sentimento di terrore che molti cittadini condividono. Parietti, riflettendo sulla sua esperienza, ha aggiunto che, in fondo, le gomme di un'auto sono un danno materiale, mentre la vita e la sicurezza delle persone sono in gioco. Il suo sfogo si conclude con una critica dura verso le istituzioni, se questo stato non garantisce la sicurezza ha fallito, la situazione attuale ha portato a una crisi di fiducia nei confronti delle autorità, lasciando i cittadini in uno stato di allerta costante e con una crescente preoccupazione per il futuro.